Sì, che stai facendo Martina? Stiamo smontando un vecchio lettore della Sony, detta anche Playstation Alpha E questa cosa qui in particolare che cosa stai cercando di recuperare? È un piccolo motore, no? Che ci potrebbe servire per fare cose Ho capito, bene Sto smontando un vecchio stereo di non sola marca? Sì, ci sarà Sano E qual è l'obiettivo? Che vogliamo fare? Per cavare i pezzi per poi cosi venne altri Ho capito Qui ci sono delle cose che sembrano interessanti Sì, c'è un motore che devo comprare Ok E poi non so che altro posso trovare, però vedo un sacco di indenaggi Stiamo smontando un vecchio fax che sta diventando molte cose belle Però dopo non c'è la camicia, la cornetta Esatto, abbiamo Ah, ve la porto la cornetta Ma vede, ce l'hai? Sì Abbiamo questo Che è bellissimo